Con grande trepidazione, seguo le drammatiche vicende dei cristiani che in varie parti del mondo sono perseguitati e uccissi a motivo del loro credo religioso. Sento il bisogno di esprimere la mia profonda vicinanza spirituale alle comunità cristiane duramente colpite di un'assurda violenza che non accenna a fermarsi, mentre incoraggio i pastori e i fideli tutti ad essere forti e saldi nella speranza. Ancora una volta rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale, come pure a tutte le persone di buona volontà, affinché si intraprenda una vasta mobilizzazione di coscienze in favore dei cristiani perseguitati. Essi hanno il diritto di ritrovare nei propri Paesi sicurezza e serenità, professando liberamente la nostra fede. Grazie a tutti.